Luciano D'Alfonso, questa mattina incontro con la stampa per configurare una sorta di operazione verità sui finanziamenti riguardanti i porti di Pescara e Ortona. Dunque, oggi abbiamo voluto fare un'operazione verità a proposito sia dei soldi in giacenza per i porti di Pescara e di Ortona, sia dei soldi che sono stati richiesti. L'esigenza di questa operazione verità è perché giorni fa sulla stampa, che è stata involontariamente raggirata, è stato venduto come finanziamento conseguito ciò che è stato semplicemente richiesto. È come se un imprenditore, solo perché si è iscritto alla Camera di Commercio, festeggiasse l'ottenimento di un miliardo di euro di appalti. Quello deve essere ancora oggetto di attività di pretesa, di organizzazione. Invece la cosa accaduta è semplicemente la richiesta. Noi abbiamo però per Pescara una cifra inimmaginabile in passato, 32 milioni di euro, che devono essere appaltati, così come 69 milioni di euro per Ortona, che devono essere appaltati. E tutte le condotte segnate da incertezza, da andirivieni, che ogni tanto rinveniamo anche nell'attività deliberativa della Regione. Che senso ha sospendere la vita dei finanziamenti assegnati con il masterplan ai diversi obiettivi strategici? Non è vero che l'avverbio temporaneamente tolga malattia alla condotta amministrativa che hanno tenuto rispetto a quelle opere infrastrutturali. Noi dobbiamo fare in modo che un finanziamento, una volta che è stato conseguito, abbia come immediatezza l'attività progettuale. Poi i pareri, poi l'attività di scelta del contraente e finalmente il cantiere. Se ci sono o le bugie di risorse finanziarie aggiuntive che non sono vere, o i tentennamenti, addirittura di sospensione di finanziamenti conseguiti, non accade mai, sua maestà, il cantiere, che è l'unico fatto che modifica lo stato dei suoli, l'organizzazione, l'armatura del territorio, per fare in modo che l'economia si trovi a suo agio per potersi esprimere. E su questo che diciamo? Anche sulle richieste ulteriori, noi siamo pronti ad aiutare, alla condizione che le richieste non siano cappellate con la mano, presentarsi alla conferenza Stato-Regioni senza carte, soltanto con l'ululato piagnucolone che vogliono più risorse, non significa poi che quelle richieste ottengano prevalenza rispetto alle richieste di altre Regioni. Io sono un eletto di questa comunità in Senato, ho la Presidenza della Commissione Finanze e Tesoro, lavorerò a difesa delle ragioni di questa Regione, ma vorrei vedere un pezzo di carta, una documentalità che supporti, in maniera da poter far prevalere queste richieste sulle altre. Ma prima ancora, per essere credibili, devi dimostrare di aver appaltato tutto ciò che avevi. Non si può avere il tavolo pieno di risorse, solo perché vengono dal passato, non si appaltano con sollecitudine e si continua nella richiesta, magari anche immatura, di risorse aggiuntive, non dimostrando però qual è la connessione funzionale. E' questo quello che rivendico come dirittura che deve essere ancora conseguita, una dirittura amministrativa e vorrei spiegare a quelli che ci hanno definito che siamo delle bestie da Soma, che è meritevole. Io preferisco essere bestia da Soma anziché una mosca che si siede sul lavoro degli altri. E voglio anche aggiungere che da oggi a dicembre, affinché arrivino altre risorse, la Regione deve chiarire quali sono gli obiettivi, documentalmente e tecnicamente, che per la Regione Abruzzo sono fondamentali per determinare risultati economici aggiuntivi, progressivi, che se non accompagnati da quelle ulteriori opere infrastrutturali, e quei risultati non si verificano. E questa è l'attività prevalente che si svolge a Roma quando si è nei tiri alla fune con le altre Regioni, che magari si presentano anche con maggiore documentalità e con più capacità di argomentazione e con più numeri demografici, con più numeri di tonnellaggio delle attività portuali. E questa è la dimensione della competizione.